Ci sono già? No, sono tutti immuni da calcio. È già accesa. Mi ho chiesto chi era la bionda che c'era la dica. Guarda i capellini. Bello. Mamma, mi riconosci? Sacchitelli in mezzo ai maroni. C'hai le cuffie tu? Ciao, sacchitelli. È già accesa. E per chi si abbona entro il ventordici di febbraio? Vai, vai. Ancora. Volete la mail? 5 euro. Raccolgo io, se volete. Vado? Vado dove? Prendete le 5 euro. In questa stagione del calcio sui maccheroni. Però non abbiamo mangiato maccheroni questa sera. Avrete in esclusiva un set di magnifici coltelli per brodo, azzurri, come Novara. 5 euro per la mail di taccucci. 5 euro per la mail di taccucci. Cari amici del calcio sui maccheroni, benvenuto. Che è successo? Tu ci vai o vado? E fate come usate carne ta da forno per il gorgonzola, testata dal nostro taccucci. Va bene così? Devo tenerlo più vicino? Cominciamo subito con quello che... Adesso lo spegni però, perché altrimenti... Taccucci facciamo il business, tu mi dai l'ok. Il calcio sui maccheroni. Un programma su Novara. Per il Novara. A Novara. Col Novara. Con Eugenio Pascal. Eugenio Pascal. Eugenio Pascal.